Un fiume in piena. Dalle dichiarazioni rilasciate ai giudici dei giorni scorsi da Carlo Gervasoni, il calciatore del Piacenza arrestato e ora ai domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Cremona sul calcio scommesse, emergerebbero nuove partite truccate e nuovi nomi. Tra loro figurano Mauri della Lazio, Milanetto, ex del Genoa, Benassi e Rosati, entrambi dell'Ecce e anche calciatori che ora militano in Lega Pro, Colacone, Cassano, Mastronunzio. La conferma viene dal verbale d'interrogatorio di Gervasoni, ascoltato martedì dal procuratore Roberto Di Martinoni, nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta giudiziaria denominata Last Bet e viene menzionato anche Gianluca Nicco, centrocampista del Pescara. La partita finita sotto inchiesta è quella del Garilli dello scorso 9 aprile, nella quale i biancoazzurri si imposero per due reti a zero. Nella confessione di Gervasoni al PM di Martino si legge, mi ero attivato con Nicco ma poi mi fece sapere con un messaggio che non era riuscito a convincere i suoi compagni di squadra a farci vincere. Nicco e l'ex difensore del Piacenza sono stati compagni di squadra a Mantova nella stagione 2009-2010. Il giovane centrocampista, molto probabilmente come tutti gli altri giocatori tirati in ballo, dovrà ora chiarire la propria posizione. Una vicenda, sottolineiamo che non scalfisce assolutamente il club abruzzese, anziché evidenzia se fondata, come i giocatori biancoazzurri eventualmente avvicinati da Nicco abbiano preferito onorare Maglia Impegni, sbancando poi il Garilli di Piacenza.